Nicola, io non pensavo oggi di poter anche sorridere e ti spiego perché. Abbiamo passato un periodo bruttissimo, da quando avevamo 18 anni abbiamo combattuto una battaglia che sembrava impossibile perché sembrava che ci fosse uno spiraglio e dopo di che si ricadeva nel dolore. Io non sono venuta oggi a raccontarti i momenti brutti perché tu te li ricordi da solo, però ti voglio dire una cosa, quando tu hai parlato, hai detto che cosa fosse successo della tua vita, quindi della denuncia, tu hai come liberato me e te da una cosa terribile che tenevamo dentro. Alla fine dei conti ci siamo liberati tutti e due perché questo dolore era immenso, era troppo grande. Quando io sono andata in quel commissariato quel giorno a fare una cosa che nella mia vita non avrei mai pensato di fare perché una madre non può arrivare a questo, ma se arriva a questo è perché vuole salvare suo figlio. Io so che questo tu l'hai capito oggi, è stato difficile per te capirlo, però sappi Nicola che io ti sarò sempre vicino, in qualsiasi momento della vita io voglio combattere con te.